Ho preparato già tutto, proprio per non farti perdere tempo Fuori posto Balsamo, questo è un balsamo cura barba Ehi, ciao, sei arrivato finalmente Sì, sì, accomodi No, 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 io ho preparato già tutto, proprio per non farti perdere tempo Sì, mi avevi detto che avevi un po' di fretta e che sei anche un po' agitato Sì Sì, mi avevi detto che devi accorgere i capelli Devi accorgere anche un po' la barba, ok? Ok, 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 non ti preoccupare Non ti preoccupare, adesso ti sistemo io E nel frattempo mi racconti un po' Ok Giusto per definire la forma, ecco Giusto per definire la forma, sì Ok 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 Allora Mi stavi dicendo Che hai un appuntamento Che hai un appuntamento Che hai un appuntamento E chi è la fortunata o il fortunato? In che senso non lo sai? Sì Quindi è un appuntamento al buio? Ho capito Ho capito E dove hai preso questo appuntamento al buio? Su internet? O su qualche social? Ah Infatti immaginavo Mi raccomando Fai attenzione Poi magari mi racconti Ok Sì Magari passi Mi racconti Mi racconti un po' E E dimmi Dove vi vedrete? Per un aperitivo? Ok Quindi in centro Ho capito Sì Vabbè mi sembra giusto Insomma Non vi conoscete Quindi un aperitivo ci sta Per chiarare un po' Sì Conoscersi magari Ci si fa una prima impressione Perché comunque Non è detto ecco che Andate d'accordo Ci può stare ecco Ci può stare perfettamente Ok Guarda Per ora Lasciamo così Magari dopo Se vuoi ancora Qualche spuntatina Tipo che ne so Qui In questa zona O se ti vuoi più corti Dai lati Allora qui Ecco se tu da questa parte Ti vuoi più corti Magari Alla fine Quando ti Ho accorgato anche la barba Rivediamo un po' insieme Perfetto Allora adesso Guarda cosa facciamo Adesso Ti accorcio la barba Poi Dopo averla accorciata Ti faccio Un lavaggio Della barba Con un detergente Ok? Idratante Sì Così andiamo Sia A pulire il viso Dalle impurità E anche A rimuovere Magari qualche peletto Che rimane In mezzo Durante la rasatura Ok? Bene Allora Vediamo Vediamo Un po' Vabbè Non è lunghissima Però è Vabbè Vuoi essere Perfetto Per l'appuntamento Lo capisco Allora userò Questo Vabbè Vabbè E' proprio Per accorciare la barba Ok? Ok Iniziamo No Vabbè Iniziamo Iniziamo Grazie a tutti. 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 E poi la barba un po' più lunghezza, dà sempre un effetto piacevole. Allora come ti dicevo adesso andiamo a detergere il viso con questo detergente. Ok. 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 ancora una corcia dei capelli sì sì guardati un attimo e dimmi sì dove? qui? ok e poi? ok? bene perfetto, sono contenta mi raccomando torna a trovarmi presto perché voglio sapere com'è andata ok? bene, allora io ti auguro una buona serata divertiti e un bacio ciao